ebbene ci siamo come sta andando il piano di accumulo che abbiamo iniziato a inizio 2021 sembra chissà quanto tempo fa ma in realtà erano soltanto quattro mesi quattro mesi inizio anno 2021 super bolla di bitcoin sino tutto quella marasma di indicazioni ragazzi ma alla fine noi abbiamo presentato un piano di accumulo vi ho spiegato una strategia per utilizzare il piano di accumulo su bitcoin e poter entrare in bitcoin in questo video che vi lascio in descrizione ragazzi andatevelo a vedere il video dove parlo della strategia di piano di accumulo ma che fine ha fatto quella strategia come sta andando dove sono stati i nostri acquisti oggi facciamo tutta la sintesi degli acquisti effettuati con quel piano di accumulo ne mancano ancora qualcuno andiamo a vedere prezzo medio di carico quanti bitcoin abbiamo come sta andando quali sono le prospettive non lo so e basta e questo è basta ok bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video mi servono i vostri pollici ragazzi come sempre perché mi aiutate col canale e soprattutto voglio sapere chi di voi ha fatto questo piano di accumulo perché io ve l'ho presentato a gennaio come sempre succede io non sono convinto di questo ragazzi quando le idee non sono le nostre difficile seguire strategie di qualcun altro per questo vi dico non copiate non copiate non copiate mai perché non funziona ma chi di voi l'ha fatto questo piano d'accumulo chi di voi ha applicato alla perfezione quello che c'eravamo detto c'era una un po di polvere allora chi di voi ha applicato questo piano d'accumulo e chi di voi ha fatto questi acquisti ragazzi e che vi avevo spiegato in quel video facciamo così allora io scrivetemelo nei commenti chi di voi l'ha fatto e soprattutto scrivetemi anche le difficoltà che state avendo ma faccio un leggero briefing per far capire a tutti quelli che stanno guardando questo video qual era quella strategia ragazzi allora a gennaio moltissimi si erano avvicinati sul mercato delle criptovalute perché hanno visto i poi i pump di bitcoin e volevano entrare e comprare su bitcoin alcuni hanno iniziato a dire ok qual è la migliore strategia di acquisto io sono stato molto chiaro ragazzi passaggio di acquisto migliore era coprare secco basta stop però per chi magari non aveva capitale per ovviare a questo problema era il piano d'accumulo resta sempre una delle strategie più facili da utilizzare soprattutto per chi non ha formazione quindi abbiamo ideato un piano d'accumulo che però aveva una variabile ragazzi cioè non andavamo ad acquistare bitcoin così a random ogni tot mese senza senso ma andavamo ad aspettare guardate che regolette ok aspettavamo ragazzi il 20 del mese e successivamente al 20 andavamo a fare i nostri buy perché perché sostanzialmente verso fine mese bitcoin ha sempre la fase ribassista a livello mensile quindi avevo creato questa strategia per dire aspettiamo ogni mese invece di comprare e alla prima candela rossa daily che il mercato ci faceva prima secondo poi ognuno diciamo alle proprie tecniche di trading andavamo a premere buy e comprare la quota di bitcoin in più avevo detto ragazzi compriamo più bitcoin nei primi mesi cioè gennaio febbraio marzo anche febbraio marzo perché ci aspettavamo la famosa cosa dell'annuale alla fine poi a gennaio diciamo è impennato quindi se ne è andato a tutt'altro posto però primi mesi più acquisti e poi arrivavamo fino a 7 acquisti totali quindi non di più perché ragazzi appunto io non sposo poi una logica per qualcuno molto lungo in questa fase ma comunque era un esperimento e questa era stata la nostra idea adesso andiamo a vedere tutti i punti di acquisto sul grafico e poi vi faccio vedere un excel che ho preparato per farvi capire i prezzi medi di carico quanti bitcoin abbiamo accumulato su una cifra di 10 mila dollari quindi 10 mila dollari che sono stati gestiti utilizzando questa strategia del pack che ho presentato nel video che vi lascio anzi facciamo così ragazzi ve lo metto sulla mia testa sulla mia testa questo video ok che passa allora in quel video la 10 mila gestiti con quella tecnica a un match money stanno facendo in questo momento utilizzando questa strategia allora prima diciamo grafico è unico grafico perché poi c'è l'excel da guardare oggi allora è quello di bitcoin ragazzi allora in by in violetto ci sono tutti i by che sono stati effettuati allora questa è la data del video in questione dopodiché passando il 20 di gennaio vedete abbiamo avuto la candela rossa e abbiamo iniziato gli acquisti acquisti che diciamo abbastanza semplice a 30.031 mila il primo acquisto a gennaio in questa zona qui potevamo farlo a gennaio o a febbraio alcuni probabilmente la vana iniziata febbraio però ragazzi ovviamente questo nessuno lo sa diciamo nessuno poteva sapere diciamo di questo balzo molto molto pronunciato in ogni caso allora questo è il primo livello vedete 30 mila e otto poi abbiamo il by due ragazzi come avviene by due con la stessa tipologia di strategia che vi ho detto quindi bisogna andare a guardare il 20 di febbraio e poi andare ad attendere quelle che sono le candele ragazzi allora qui c'è una questione perché la candela chiude a 53 io vi ho inserito un by 1 a 50 51 a dire la verità perché ragazzi perché il mercato ha fatto lasciato pronunciatissima quindi o si aspettava oppure qualcuno di voi probabilmente sarà entrato qui quindi non mettiamo né il minimo né la parte di chiusura mettiamo una zona metà e ho detto facciamo 51 ok giusto per capire un po il perché di questi prezzi ragazzi ok poi secondo by è avvenuto in questa zona qui poi abbiamo il terzo by per quanto riguarda il mese di marzo quindi a marzo ragazzi il 20 sta qui aspettando le prime close ovviamente stesso identico discorso qui questa ragazzi questa non è una candela rossa ok però io spiegavo in quella strategia di attendere diciamo una giornata rossa questa è una giornata e che si definisce rossa per modo di dire però in realtà è semplicemente un giorno in cui il mercato sta fermo quindi questa era la giusto by ed è avvenuto in questa zona più o meno ma anche volendolo comprare diciamo sui bassi di questa candela siamo sempre lì ragazzi pochissima la differenza di prezzo poi per quanto riguarda invece il quarto by è più basso del terzo perché nel mese di aprile è andato più giù il mercato del mese di marzo perché ha fatto un minimo inferiore quindi abbiamo un quarto by by for che più basso ragazzi quindi attendiamo come sempre il 20 e tra qui e qui insomma anche qui ragazzi due candele rosse si possono comprare in quest'area io ho fatto il mio quarto by a 51 e 4 poi il mercato è sceso molto di più ovviamente però nella strategia che abbiamo indicato ovviamente non c'è analisi tecnica quindi io faccio finta di non applicare analisi tecniche ovviamente non è così io non farei mai una cosa del genere ma questa è una strategia corretta per chi magari non vuole andare a formarsi non vuole andare a studiare non vuole andare a fare i corsi libri e tutto il resto e vuole farlo con una logica semplice lineare però che possa diciamo essere ottimizzata il più possibile rispetto a quello che la strategia di un pack allora questi sono tutti quelli che tutti diciamo i punti di acquisto scusate ragazzi mi ho messo in sovraimpressione adesso il excel così andiamo a vedere quello che è successo come siamo da un punto di vista di profit e loss e poi soprattutto i prossimi acquisti dove andranno ragazzi allora ecco il excel in questione allora ragazzi i buy sono avvenuti con i primi 3 al 20 per cento poi il quarto a 10 per cento il quinto al 10 per cento il sesto e il settimo allora intanto le percentuali sono diverse perché vi avevo già accennato che era meglio comprare tutto più velocemente quindi più diciamo nella prima parte di questo accumulo che nella seconda allora il pack 10.000 dollari ingressi programmati 7 valore attuale di bitcoin 57.000 più o meno oscilla oggi ragazzi allora mai uno è avvenuto a con il 20 per cento a 30.868 quanto è il capitale investito ragazzi il capitale investito sono 2.000 dollari perché abbiamo fatto in pratica il 20 per cento dei 10.000 quindi qui avete la colonna con i capitali investiti qui la totalità dei bitcoin che abbiamo acquistato a quel prezzo e poi ragazzi abbiamo proseguito con il mese di febbraio a 50.006 il mese di marzo a 53.5 con l'altro 20 per cento e poi il mese di aprile a con un solo mille perché abbiamo iniziato la riduzione dei vari buy a 52.4 e 61 quindi un po più basso migliaio di dollari più basso di di marzo ragazzi allora totale prezzo medio di carico che cos'è il prezzo medio di carico cioè il prezzo medio di una posizione quindi dei nostri acquisti di bitcoin abbiamo comprato 0 16 0 73 bitcoin il prezzo a cui abbiamo pagato quel bitcoin è 43.552 dollari questo è il prezzo medio quando si fa un acquisto che viene definito essere ponderato ragazzi ok ponderato in base alla quantità il capitale investito sono 7.000 dollari mancano le ultime tre tranche 1 2 3 e poi abbiamo un totale di 0.16 0 73 bitcoin acquistati ragazzi allora andiamo a calcolare il profit o loss di questa operazione ovviamente siamo in profitto bitcoin è salito dal livello nostro dei prezzi medio di carico di 2.161 dollari di profitto su 7.000 investiti quindi 31 per cento di profitto con questo pack attualmente su bitcoin ragazzi ovviamente moltissimo è dovuto all'incremento all'incremento che bitcoin ha avuto nel mese di febbraio ragazzi ok quindi chi è entrato nella seconda parte quindi non a gennaio ma si è lasciato sfuggire tutta la prima gamba rialzista avrà un profit più basso facciamo la prova ragazzi dovrebbe automaticamente muoversi l'excel ok l'ho fatta la prova per farvi vedere ritorno indietro allora ragazzi se ipotizziamo assente totalmente il mese di la scalata del mese di febbraio quindi chi è entrato soltanto dopo il profit si aggira intorno al 10% quindi decisamente più più basso ragazzi mentre invece questo è quello attuale diciamo gestito attraverso l'utilizzo di quella strategia ora resteranno gli ultimi tre ingressi per questo piano di accumulo ragazzi che sono però pari al da 30 per cento restante quindi questo prezzo medio di carico difficilmente potrà muoversi tantissimo dagli attuali livelli perché il diciamo gli ultimi acquisti a meno di enormi movimenti di bitcoin non muoveranno più o meno questo prezzo quindi siamo riusciti in pratica con un pack del genere ad avere un prezzo tra 43 e direi chi magari ha fatto un po' di ritardo circa 48 mila dollari di acquisto su bitcoin va bene allora seguiremo ulteriormente questo pack per i prossimi mesi ne mancano tre ragazzi quindi mancheranno maggio giugno e luglio per gestire tutta la posizione e poi questa posizione dovrebbe essere quella che poi ci porterà un super profitto tra virgolette ovviamente sempre se tutto va bene ovviamente sono previsioni quindi sapete bene quello che sto dicendo se la seconda gamba dell'alving avrà luogo cioè se bitcoin ragazzi inizierà a pompare alla grande a fare nuovi pump nella seconda parte dell'anno quindi dopo giugno dopo maggio giugno ma allora a quel punto questo pack inizierà ad essere profittevole noi avremmo acquistato con una strategia semplice lineare veloce avremmo accumulato i bitcoin senza farci prendere la mano e soprattutto gestendo quelle che sono le paure emotive ragazzi allora il pack è la strategia migliore di acquisto di uno strumento finanziario sì no cosa ne pensate e non rispondessero quelli dell'academy perché loro già lo sanno cosa penso io di queste strategie però sono anche molto utili soprattutto per chi non ha molta formazione e vuole addentrarsi in questo mercato ragazzi avete fatto anche voi un pack su bitcoin quali strategie state utilizzando fatemelo sapere come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video oggi bitcoin più del mese di aprile candela rossa manca pochissimo e manca anche pochissimo a decidere candela rossa si candela rossa no ciao a tutti